Il passaggio da una realtà dinamica di medie dimensioni ad un gruppo multinazionale mi ha messo in condizione di confrontarmi con esperienze diverse. Bosch rappresenta una grande opportunità. Oggi io posso confermare che questa opportunità è concreta, basta saperla cogliere. I corsi di formazione, le occasioni di incontro con colleghi di altre culture, il sentirsi partecipe attivo di un'organizzazione produttiva sono ingredienti di un successo economico e sociale al quale so di poter contribuire. Grazie.